Buongiorno, ciao! Ciao! Buongiorno, ciao! Buongiorno, buongiorno! Buongiorno, buongiorno! Buongiorno, buongiorno! Come ti chiami? Io mi chiamo Marcio. Il mio nome è Marcio. E il mio nome è Marcio. No, io non metto il mio nome. Io faccio Marcio. No, va bene. No, va bene. Cosa ti faccio Marcio? No, io sono un po' un ragazzo, un po' spistantino. Il mio genere è un po' sempre. E come ti faccio? Ce l'avevo scolato. Sì. Ragazzi, te l'avevo scolato. Mi trovate per sparare. No, vabbè, dai. No, vabbè, dai. No, vabbè. Cosa ti faccio? Marcio! E Marcio, sei il salto! Parti! Ehi, dai, dai! Voi come ciò di parlare! Ma il mio dono! Cosa ti faccio? Lui! Ehi, il mio dono! Ci faccio? Vai! Ehi! 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 bello io voglio pensare a tutti ma sono molto in inglese sono molto in inglese ma sono molto in inglese è una cosa in inglese ecco, perciparò questo che sono 5 ma perciparò stiamo cercando di fare i 15 anni potete dire che sono solo quelli che cantano ci sono variose ci sono variose Ciao Bruno, grazie.